musica musica devo farlo almeno una volta nel video oh è arrivato il marino è arrivato il marino è arrivato il marino è arrivato il marino si tienilo non ce la faccio raga posso le chiedere un applauso per tutti un applauso ai finalisti che parola devastante sto svenendo sto svenendo giuro ma così dalle sfocati a me è venuta bellissima se la facciamo l'altra posso zalla io la faccio si è d'accordo ma niente è bella electro crazy electro crazy crew electro dance lazio hanno capito una caponsio 10 9 8 7 6 5 8 3 2 1 6 5 6 6 7 8 8 7 8 9 8 9 9 10 10 11 Sì, cazzo! Come on! Guardate voi, ecco! Guardate voi! Molta! Bella! Grazie! Guardami, che non lo trovavo! C'è voi! Ciao, si! Viara! C'è voi! Ehi Andrzej! Sì! 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 è andata così ma complimenti agli accicli, fortissimi, tutti bravi, bravi grandissimi, grandissimi, questo lo metti nel trailer, allora siccome Armi diceva che non vinceva, io li devo saccheggiare casa come promesso, quindi mercoledì che è la prossima settimana, oggi è il 28, 29, 31, 1, 1 dicembre casa Armiraglio sparirà, e poi Dino ha vinto il freshman con due stacchi in semifinale e uno in finale, Dino ha vinto il freshman con due miei stacchi e... Questa è l'Electro, passione, sentimenti... Poi chiedete perché balliamo, guardate... Hai vinto! Hai vinto! Hai vinto! Hai vinto! Invece oggi ho saputo realmente, cosa vuol dire, ballare, esprimere voi stessi! Grazie! Grazie a te! 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 Questo è VertiFight.it Il vero è così, cioè proprio... Cioè esprimi il tuo corpo proprio... È un esperimento di quello che fai, per mettere ogni stile che vuoi... E poi andatevi a vedere i video degli anni cinquanta, di Charleston, le cose antiche le mettete nelle cose nuove, città? Eh? Capito? Come dice Matt? Bella! Come si chiama questo evento? VertiFight! Verti... VertiFight! Bella da VertiFight! Yes! La Willy V! Grazie! Grazie a voi ragazzi! Ok dai! Vai premia! Veloci! Guarda tu quant'è? Veloci! Vero! T'hai riuscito a eliminare? Vero! Vero! Bravi raga! Applausi! 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 Fai tu quest'anno! Eh? Che sono tre anni! Arminico! 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 È arrivato Domo! Arminico! Arminico! Piccola lui! Piccola lui! Piccola! Basta piangere zio! Arminico com'è? Bella! Bella! Arminico! 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 Poi! Arminico! Sì! 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 Arminico! 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 Sì! Arminico! C'è? Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Adesso mettetevi tutti i abbracciati e facciamo la foto se sei ancora un fotografo Fateci... Stoppo? Stoppo? Sì, stoppa!